Collettivo con attrezzo Junior Strasbourg Quinta classificata Freedom Fitness squadra E Vecchio Fanni Lanno Quanto posto Freedom Fitness squadra D Aglio Siracusa Zapparà Soprattutto con attrezzo posto con punti di 9,20 Treni del club squadra A Vecchio Fanni Lanno Quanto posto Freedom Fitness squadra D Aglio Siracusa Zapparà Soprattutto con attrezzo posto con punti di 9,20 Casa Zapparà Qui Soprattutto con attrezzo waves orian E all'epoca il primo posto con il punto di showederschSay potere di dire 20, video da zero il concludere squadra C SiamoSize Ess��ali Delle preferite con me SiamoSize Poi quindi Gai Gai Chi 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 Dai da! Dai da! Dai da! Dai da! Dai da! ... ...